Sono contento e orgoglioso di tutto quello che sto facendo nella mia carriera, ringrazio sempre i compagni, lo staff, tutti i tifosi e tutta la gente dell'Inter che è sempre il nostro figlio. L'Inter ha creduto in te, ti ha preso alcuni anni fa, tu te la immaginavi così, questa tua esperienza italiana, questa esperienza vera azzurra? Sinceramente no, però ho lavorato tanto, poi dal giorno 1 che sono arrivato in Italia all'Inter mi ha dato una grandissima mano e sono grato di questo, cerco di mostrare il campo e ringraziare lì a tutti e niente, dobbiamo continuare su questa strada perché dobbiamo portare l'Inter sempre per te. Hai vinto tantissimo e ovviamente io volevo chiedere, visto che siamo quattro gatti e rimane qua di noi, mi dicevo io, ma lei no, lo facciamo o no? Così la domanda dovevo farla, scusate, non me la mi finta, lo faccio io dei spontanei a volentare. Non mi piace. Eh, eh, dai dammi. Dai. Vuoi, vuoi un titolo? Dai, venga, venga, dale. In Argentino faccio anche l'accento per caso. No, siamo lavorando e speriamo di trovare un accordo con l'ora. Ma bene, parliamo un po' con Marotta, dai. Tranquino. E allora, consegniamo il premio al Lautare Bertini e insieme. Grazie a tutti i compagni che ha lasciato e lascia il segno. Complimenti l'autore.